buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con qualla zampa parliamo di ocche è sicuramente un volatile abbastanza semplice da allevare soprattutto se si ha a disposizione una parte di pascolo perché a differenza di altri uccelli come vengono quelli che vengono allevati nel mondo rurale l'oca sfrutta molto bene l'erba del pascolo infatti se avete a disposizione un prato anche non facilmente accessibile alle macchine quindi una costa una riva di terre ad eclive che può essere circondata e pascolata l'oca è un interessante animale sia per tener pulito che per un'ottima produzione di carne e di uova potete costituire un gruppo formato da un maschio e quattro femmine e queste pascoleranno tranquillamente nel prato e saranno quasi autosufficienti basterà integrare un 200 grammi di mangime o di granaglie apposite per per animali da cortile in questo modo le ocche cresceranno in modo normale quindi potranno produrre sia carne che uova calcolate che un'oca depone all'incirca 100 uova durante l'anno però non è una buona covatrice per cui se volete tentare la riproduzione dovete munirvi o di incubatrice oppure far covare le uova di oca a qualche altro animale come il tacchino l'oca viene macellata quando non è anziana nel senso che tende ad accumulare grasso per cui quando ha già 12 o 15 settimane è pronta per la macellazione è sicuramente interessante per la produzione di carne ma a livello industriale viene anche utilizzata per produzione del fegato grasso e queste tecniche sono comunque discutibili in quanto l'animale viene forzato a mangiare più del necessario è una specie di stato patologico del fegato produce anche fegati da un chilo però proprio per la produzione del fegato grasso bene per questa sera è tutto vi do appuntamento a settimana prossima per un nuovo appuntamento arrivederci